Metrix è un sistema Neo e quel sistema è nostro nemico ma quando ci sei dentro ti guardi intorno e cosa vedi? Uomini d'affari, insegnanti, avvocati, falegnani, le proiezioni mentali della gente che vogliamo salvare ma finché non le avremo salvate queste persone faranno parte di quel sistema e questo le rende nostre nemiche. Devi capire che la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata, tanti di loro sono così a sue fatti, così disperatamente dipendenti dal sistema che combatterebbero per difenderlo. Mi stai ascoltando Neo o guardi la ragazza col vestito rosso? No stavo... Girati, blocca.